A due cose devi stare molto attento quando scrivi in Facebook o chatti o parli con qualcuno di un argomento e si verifica il caso che una persona voglia avere ragione a tutti i costi anche quando ha oggettivamente torto ma non ci riesce allora che cosa fa per prima cosa cambia discorso ci sono persone abilissime a cambiare discorso e l'interlocutore cosa fa corre dietro al discorso cambiato errato in seconda battuta che cosa fa chi vuole avere ragione a tutti i costi incomincia a parlare di te la butta sul personale non riesce ad avere ragione sull'argomento se la prende con te comincia ad offenderti a quel punto è inutile andare avanti ti conviene tagliare ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti